Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Si continua Shui Koden 3 dove abbiamo visto un po' la situazione per quanto riguarda il punto di vista di Yugo, il punto di vista di Thomas o Thomas, ma dovrebbe essere Thomas e non Thomas perché non ha l'accento, e stiamo iniziando effettivamente a capire un po' che ci sono delle situazioni molto particolari, dal punto di vista di trama Shui Koden ha sempre rispettato degli standard altissimi, le trame e le storie di Shui Koden praticamente tutte sono molto simili tra di loro, dove ci sono ovviamente imperi, stati che si scontrano, battaglie eccetera eccetera, però tutte le dinamiche che ci stanno dietro sono sempre interessanti. In questa di Shui Koden 3 devo ammettere aver avuto una sorta di noia iniziale, in quanto il gioco è comunque abbastanza lento in alcune situazioni, molto prolisso, molti dialoghi, molte scenette, però c'è anche da dire che la base o comunque l'inizio fondamentalmente di ogni capitolo, quindi capitolo 1, capitolo 2 eccetera eccetera, sono sempre così. I primi capitoli sono sempre introduttivi, sono sempre molto prolissi, ma in qualsiasi gioco, specialmente in un gioco, è un RPG o comunque un G-RPG di questo calibro, che sicuramente ti vuole fare immergere nella storia. E oggi continuiamo col capitolo 2. Capitolo 2 di Chris che ci sta facendo vedere il suo punto di vista in una situazione che sta diventando molto complicata. Il regno di Zexen e ovviamente le terre indipendenti delle Grassland stanno iniziando ad entrare in conflitto, in un conflitto molto più sanguinoso rispetto a quello che avevamo visto magari precedentemente. Quindi continuiamo col capitolo 2 di Chris, in questo caso, perché è quello più coerente dalla storia che stiamo vivendo, anche perché a me, così a naso, mi sembra che il terzo personaggio, ovvero Jeddo, sia un capitolo completamente esterno, o che sia fondamentalmente un capitolo proprio letteralmente opposto anche, potrebbe anche essere un capitolo opposto. Quindi vediamo effettivamente come si andrà a sviluppare e snocciolare il tutto. Allora, ti lascio, ok, ti lascio, diciamo, il comando qui mentre io sarò via. Certamente, signorina Chris. Mi dispiace se non sono stata qui per tanto tempo, per troppo tempo. Ah, non si deve preoccupare. Suo padre era lo stesso. Cioè, ci sono io qui comunque per aiutarla, per servirla. Lei è troppo, lei è impegnata fondamentalmente. Il mio caro padre è... Anche perché effettivamente non sappiamo come sia morto il padre di Chris. Sappiamo che comunque il popolo delle Graceland, soprattutto con il fratello di Lulu, che stava addirittura lucidando e conservando l'armatura del padre di Chris, facendo consegnare a Yugo addirittura il suo stemma a casa sua. Lo stemma reale a casa sua. Quindi capite benissimo che c'era questa profonda stima, c'era questo profondo rispetto per quanto riguarda il padre di Chris, no? Quindi bisognerà vedere in futuro questa cosa. Allora, andiamo da questo lato. Non capisco perché adesso l'emulazione da un po' di tempo a questa parte sta dando qualche piccolo sfarfallamento, qualche piccolo rumore di bug in sottofondo. Vabbè, speriamo nulla di grave. Eccoci qua. Pronti per partire? Buongiorno Lady Chris. Andiamo via adesso? Abbiamo avuto l'ordine di ritornare direttamente al fronte. Odio tutto ciò. Ah, non importa Boris. Sbrighiamoci e torniamo indietro al Brass Castle. L'ultimo che arriva è un marcio... E vabbè, è marcio tipo. Va bene, Boris è già in alto. Luis ovviamente va sempre nel convoglio perché non combatte. E possiamo tornare indietro. Ma devo tornarci a piedi oppure... Eh no, ok. No, mi sa che devo tornarci a piedi. Va bene. Andiamo al Forte Brass. Incredibile. Mi ha sbloccato il Lake Castle, ovvero il castello di Budehack. E... Boh, ci sono andato così per curiosità. Ah, ecco, vedi. È partita una scena extra, però. Mi scusi, sembra che abbiamo preso una strada sbagliata. Dove ci troviamo? Salve, siete benvenuti. Dovete essere venuti qui perché avete sentito i nostri commerci. Ah, ma già il castello è sviluppato, però. Perché c'è il negozio oggetti e anche il negozio di rune. Ah, ma siete... Siete... Fate parte dei cavalieri di Zexen? Oh, sì, voi siete Lady Chris. Sì, sono io. Ma non mi hai ancora detto qual è il nome di questo posto. Oh, scusi un momento. Io chiamo subito Thomas. Ok, ma... Perché non mi dici come si chiama questo posto? Effettivamente. Cioè, la domanda era molto semplice, in realtà. Ah, quindi il primo incontro tra Thomas e Chris. Che tra l'altro era tutto opzionale questo. Cioè, è tutto opzionale questa cosa. Perché io in realtà dovrei andare al castello di Brass. Che sta succedendo, Thomas? Il comandante dei cavalieri di Zexen in persona è venuta qui. Come faremo ad uscire da questa situazione adesso? Immagino che hanno scoperto della nostra... Diciamo, del nostro... Cioè, della nostra rivoluzione, quello che è. Questi per noi sono i cavalieri di Zexen. Non sono spaventato. Semplicemente spiegherò come stanno le cose. Cioè, lei in realtà non sa un cazzo. Cioè, proprio lei è arrivata lì così per totale sbaglio. Però... Salve. Benvenuta. Sì. Benvenuta al nostro castello di Midgar. Quindi lei è arrivata dopo gli eventi di Thomas. Cioè, questo capitolo 2, cronologicamente parlando, si svolge dopo gli eventi di Thomas. Ah, quindi questo è il castello di Midgar. È sorprendente come un pezzo di Zexen sia diventato adesso delle Grassland. Oh, beh, sì. Thomas? Sì, le spiegazioni. Questa terra è stata creata, comunque è stata vissuta fondamentalmente, in una terra comune tra le Grassland e Zexen, secondo un vecchio trattato. Una terra comune? Mai sentito nulla del genere prima. Beh, il fatto è che... Forza, Thomas! Abbiamo dovuto fare qualcosa per sopravvivere. Per favore, cercate di comprendere. Non avevamo altre opzioni. Stavamo incominciando a morire di fame. La nostra unica possibilità era quella di rinnovare il sistema e permettere alla gente di creare qui il loro business. Cioè, nella nostra terra, e aprire dei negozi. Una sorta di, appunto, luogo comune per tutti. Soltanto metà delle leggi di Zexen sono applicate qui. Ecco perché abbiamo dovuto, appunto, stipulare questo accordo. Per favore, cercate di comprendere. Ma di che cosa stai parlando? Ecco, ora gli spiega che io non sono qui in qualità di, appunto, capitano dei cavalieri di Zexen per farti il culo, ma perché ho sbagliato strada. Nulla di scandaloso. Quindi quello che stai dicendo è che tu permetti di affittare la tua terra per aprire dei business, cioè per aprire dei commerci, senza l'approvazione del concilio. Sì. Non avevamo altre alternative, signorina. Diciamo, vabbè, lease or lose è comunque un modo di dire. Era l'unica cosa che potevamo fare. Vi promettiamo che però saremo in grado di cambiare le situazioni se insistete. Qualsiasi cosa voi vogliate fare, ovviamente, evitate, cioè potreste evitare comunque di dirlo al consiglio. Se me lo chiedete, il concilio non ha posto... Cioè, il concilio non ha nessun, come dire, nessuna autorità per controllare i commerci al di fuori di qui. Quindi non possono farvi del male. Questa terra di Zexan è nel centro della terra delle Gressland, dopo tutto. Però vi suggerisco di non spingervi troppo e di portare troppa attenzione del concilio, ovviamente, sulle vostre teste. Ma questo significa ciò che... Cioè, questo significa quello che penso che significhi? I cavalieri non sono nella posizione di dare la loro approvazione, ma ovviamente possiamo far finta di non aver visto. D'altro canto il concilio ha fatto delle cose abbastanza dure dal mio punto di vista. Quindi non vedo il perché io dovrei dire a loro di questa cosa. Molto nobile e gentile da parte sua, signorina. La ringraziamo tanto. Io sono Cecil, il comandante delle guardie del castello. Così come tu proteggi Zexan, io proteggo questo castello. Capisco. È un bel castello. Sembra un po' malmesso, ma... Ma vedo, comunque, riesco a vedere che riuscirete a fare delle cose importanti qui. È quello che vogliamo fare. Stiamo cercando di fare... Stiamo cercando di migliorare le cose. Per un momento ho pensato che sarei affogato nel mio stesso sudore. Ovviamente lui molto coraggioso, come sempre. Bella questa interazione tra Thomas, ma quindi io non posso entrare qua. La ringraziamo davvero tanto, Lady Chris. Mi piacerebbe proteggere questo castello anche a me. Ma certo. Col vostro permesso, mi piacerebbe visitare questo posto ancora in futuro. Sto cercando di sviluppare una sorta di concretezza, cioè una sorta di... Anzi, fondness sarebbe tipo una sorta di rispetto, comunque una sorta di... Sì, di abnegazione, una roba del genere. Per questo vecchio castello. E il suono dell'acqua che la circonda. E se qui ci sono delle persone che hanno la possibilità di aprire il loro commercio, potrò dire a loro di questo posto. Ah, quindi abbiamo aperto i reclutamenti con lei. Saremmo onorati se tu fossi uno dei nostri ospiti, quando vuoi. Sì, per favore, fate... Cioè, fate... Potete venire quando volete. Quindi abbiamo aperto i reclutamenti con Chris adesso, perché lei ha detto appunto che avremmo mandato la gente in questo castello. Quindi ho ufficialmente aperto i reclutamenti con... Con Chris. Posso entrare a esplorare? Sì, in realtà sì. Posso entrare a fare un giro. C'è anche la lotteria in realtà, ma non so se posso... Eh, una lotteria. Lei non gioca alla lotteria comunque. Mi impedisce di giocare alla lotteria. Però già c'ho tutti i commerci che ho sbloccato con Thomas. Quindi c'è la maestra di rune. C'è tutto. Ovviamente non ho rune da poter utilizzare, però lei non... Ah, non mi vende nulla. Peccato. E il negozio oggetti mi consente di... Di comprare qualcosa? Perché qui effettivamente c'ho l'armaiolo. C'ho tutto. Posso potenziarmi anche. Quindi è un vantaggio in questo caso per me aver reclutato tutti qui. Oh, guarda un po' chi si rivede. Eh, non ci sono oggetti che vende. Che non mi vendono niente sti stronzi. E qui cosa c'è? Questa è una casa... È una casa a parte? Ah, ecco, vedi. Hanno costruito già il prossimo shop. Che non so effettivamente quale possa essere qui. Perché... Cos'è che mi manca ancora di... Di negozi per Shukoden? Beh, io voglio andare dal fabbro però. Cioè, il fabbro mi permetterà di potenziare le armi, no? Eh, sì. Buono. Così possiamo andare fino al livello 9. Eh. Eh, vedi. Lui è ancora a livello 5. Quindi, cioè... Capite bene che qui i soldi vanno spesi proprio per diventare più forti e fare comunque più danni. Cioè, qui praticamente i soldi volano come se non ci fosse un domani. Perché sei quasi costretto proprio letteralmente a... Ad avere comunque il top per quanto riguarda equipaggiamento e armi. Perché i nemici ti fanno il culo. Lui penso che non mi venda niente, vero? No, e invece mi vende... E invece sì. Lui mi vende qualcosa. Ma probabilmente lui mi vende qualcosa perché se non l'avessi reclutato avrei potuto comprare le robe direttamente a Vinai del Zexai. Credo che lui nella capitale mi avrebbe venduto comunque le cose. Quindi i personaggi che io tecnicamente posso incontrare per trama mi vendono le cose. Mentre invece le persone che non ho incontrato per trama. Per esempio Jin l'abbiamo incontrata nel... Dove l'avevo incontrata... Ah no, ma Jin effettivamente era nel Brass Castle. No. Dov'era Jin? Dove l'abbiamo reclutata Jin? Al Brass Castle forse. Perché al villaggio delle papere non c'entra. No, strano allora sta cosa. Ok, qui non abbiamo nulla da comprare però. Come equipaggiamento diciamo noi siamo messi anche abbastanza bene fortunatamente. Anche perché essendo dei cavalieri giustamente abbiamo un ottimo equipaggiamento. Però tantissima roba il fatto di aver potenziato le armi e averle portate già a livello 9. Questo è tanta roba. Comunque sì, non c'è nient'altro che effettivamente debba fare qui. Potrei fare un giro all'interno giusto per vedere ma... Sì dai, ci sto a pochissimo. Ok, sono tornato al Brass Castle. Inoltre ho anche migliorato le armi. Ho migliorato... Ho migliorato anche le abilità dei miei personaggi. Quindi io adesso fanno più danni. Sono un po' più forti. E si vede già comunque la differenza. Quindi qua le cose importanti saranno aumentare le passive fondamentalmente. E avere sempre il top degli equipaggiamenti. Quindi farmare le lotterie sarà praticamente un must. Letteralmente sarà un must. Ah, finalmente. Tempo di rinfrescarsi in qualsiasi momento. Come mi hai suggerito... Anzi, come mi hai ricordato... Avevo dimenticato di... Anzi... Mi è stato proibito di avere un singolo drink la notte scorsa. Dovresti fare... Cioè, dovresti consultarti di nuovo con Salom prima di indulgiare. Lui disapprova il bere prima della battaglia. Oh, sì. Ancora quello. Cioè, sta pensando al fatto che lui ancora era sospettato del fatto di aver gestito quell'attacco... In modo un po' particolare, no? Al villaggio dei Caraia. Quindi ancora la ferita brucia. Io mi occuperò dei cavalli. Grazie. Grazie, Luis. Luis, anzi, in questo caso. Stiamo andando via o... Aspetta. Ah, stiamo andando via per andare direttamente dal clan delle lucertole immediatamente? Contro la mia migliore... Diciamo, contro la mia migliore previsione. Alas. È un nome, Alas, però. Noi cavalieri abbiamo i nostri compiti. Non mi sembri troppo contenta di tutto ciò. No. Va bene, quindi Luis ha lasciato il party. Va bene, questo ci sta. Dobbiamo andare... Da Salom, immagino. Quindi dobbiamo andare verso questa zona e poi salire sopra. Cioè, dobbiamo andare di qua... Dove era Salom? Aveva la stanza da questo lato, se non mi ricordo male. Era la prima stanza che c'era qui? Ah, siete tornati in fretta. Non vi aspettavo così... Diciamo così presto. Adesso, Lord Salom, tu sei l'unico ad essere troppo ansioso di rivederli praticamente indietro. Percival. Il vostro ritorno così frettoloso può significare soltanto una nuova cosa, un nuovo compito. Esattamente. Dove sono Leo e Roland? Sono andati fuori per una lunga passeggiata. Hanno detto che avevano bisogno di un po' di esercizio. Immagino che loro intenda dire Leo. Dovrebbero tornare indietro per fare, diciamo, scorta. Possiamo parlare dopo? Non vedo perché no. Sono stata molto occupata recentemente, quindi sfrutterò l'occasione per fare una breve pausa. Farò portare dall'attendente dell'acqua calda. Rilassati e rinfresca te stesso prima della cena. Lo farò, grazie. Ok, quindi posso andare praticamente nella mia stanza. Ok, Boris ha lasciato il party. Quindi posso ritornare nella mia stanza che dovrebbe essere questa. Anche perché al castello di Midgar, in questo caso, ho controllato se potevo reclutare qualche personaggio tramite l'investigatore privato e niente. I personaggi sono rimasti identici, quindi vuol dire che per il momento tutti quelli reclutabili penso di averli già reclutati con Thomas. Quindi va bene così. Lord Salomo mi ha appena chiesto di portarti dell'acqua calda. Lady Chris. Preparerò tutto in fretta. Nel frattempo, andate giù e rilassatevi. Ah, va bene, andrò. Grazie, Luis. Certo, Milady, devi essere esausta dopo un lungo viaggio del genere. Sai cosa? Lord Salomo e Percival cucineranno stanotte. Veramente? Sono molto eccitati riguardo a ciò. Non riesco a immaginarli a cucinare. No, neanche io. Questo dovrebbe essere buono. Che stanno facendo? Stanno confabulando tutti... Ah no, sono tutti insieme. Ah, non l'avevo vista, Chris. Pensavo fossero tutti senza di lei. Spero che abbiate trovato la nostra arte culinaria... La nostra creazione culinaria soddisfacente. Mi aspettavo del talento da parte tua, Percival, ma non avevo idea che Lord Salom sapesse cucinare. La mia famiglia è stata sempre felice nel preparare il cibo. Era un po' liscio, comunque. Beh, la prossima volta farò il tuo molto buono e piccante. Sarà sufficiente? Penso vada bene. Ne abbiamo fatto dell'extra proprio solo per te. Ho sicuramente apprezzato tutto. Dal buon cibo alla compagnia. Sono grata per tutto il vostro lavoro, gentiluomini. Ah, tu ci onori. Mi sono... Diciamo, sono orgoglioso che ti sia piaciuto. E adesso buttiamoci negli affari. Vorrei sentire le vostre opinioni. Abbiamo dei nuovi ordini dal concilio di Zexen. E questi sarebbero? Dobbiamo soggiocare il clan delle Lucertole. Conquistare il... Il grande... Diciamo, la grande caverna. Diciamo, il grande buco, quello che è. Eh, non è un compito molto piacevole. Non mi interessa se quelli... Se quelli ci hanno fatto cagare addosso l'ultima volta. Questa volta li schiacceremo. Abbiamo bisogno di almeno due mesi per prepararci. Non... Non... Credo che il concilio non... Non voglia attualmente distruggerli. Vogliono soltanto fare in modo che si ritirino a mani alzate. Dovrebbe esserci una nuova elezione del concilio, di un nuovo membro del concilio, diciamo, a presto. Ci sono alcuni candidati che stanno utilizzando questo, diciamo, questa mossa per incrementare la loro popolarità. E noi, invece, dobbiamo fare in modo di rivendicarci o comunque di riscattarci dalla scorsa sconfitta. Dobbiamo salvare anche noi la nostra faccia. Sono completamente d'accordo. Non siamo stati gli unici che hanno perso degli amici o familiari nell'ultima guerra. Vendicheremo i morti e Lord Miriam e Lord Lanchet. Hear, hear. Nel senso, ascolta, ascolta, ma sarebbe tipo giusto, giusto. Quindi presumo che questa compagnia debba essere messa insieme per far paura alla federazione di Zexen e ai cavalieri per far fare paura in generale al cuore di Grassland, grazie appunto alla federazione di Zexen e ai cavalieri. E immagino di sì. Quindi chi vuole combattere le lucertole nelle loro caverne? Io no. Grazie. Non vuoi andare dalle lucertole per evitare di sporcare la tua preziosa uniforme, vero? Per favore, Percival. Tieni i tuoi scherzi umani alla soglia minima. Io non voglio combattere... no. Non li trovo divertenti. Certo, Roland. Colpa mia. La mossa più intelligente sarebbe quella di aprire il fuoco e finire prima che loro riescano a raggiungere il Great Hollow. Concordate? Sì. Concordo. Anche io. Hai il mio voto. Sono pronto per un po' di azione. Tutto quello che ho fatto la volta scorsa è stato inseguire quel piccolo ragazzo di Caraia. E quando ho raggiunto il terreno di battaglia era già tutto finito. Ok, va bene così. Salom, quanto tempo ti serve per preparare il tutto? Un paio di giorni almeno. Quindi partiremo presto. Non appena sarete tutti pronti. Facciamo del nostro meglio nel modo in cui sappiamo farlo. Lady Chris, non avete dimenticato qualcosa? Che cosa c'è, Luis? Siete state ufficialmente sollevate dal vostro incarico di Capitano dei Cavalieri? Ti insegnerò qualcosa, Luis. L'approvazione del Concilio non serve in determinati casi come un Capitano. Cosa intendi? Luis, il Capitano è qualcuno che come Cavaliere ti permette di migliorare e ti permette di vivere al meglio la tua vita. Niente di più, niente di meno. Ah, capisco. Adesso ho capito. Bene. E adesso andiamo a divertirci un po' con il nostro Capitano. Anzi, Toast sarebbe tipo... Vabbè, andiamo a sistemarci, andiamo a prepararci questa cosa per la nostra nuova campagna. Splendida idea. Facciamolo. Luis, che ne pensi di un bel bicchiere ghiacciato di latte per te? Oh, non vale. Ecco, giustamente. Loro vanno a bere, vanno a farsi un drink. Lui invece è un bel bicchierozzo di latte, come giusto che sia. E Chris se la prende a ridere. Si diverte fondamentalmente. Buongiorno, milady. Ma che hai faccia? Che problema c'è, Luis? Ah, è solo che il vino della scorsa notte, Lady Chris. Ecco, che ti serva di lezione? Percival si è sicuramente divertito a farti ubriagare. Ok. Allora, direi di andare avanti un altro pochettino. Dai, si può fare. Possiamo andare avanti un altro pochettino. Anche perché penso ci sarà qualche altra scenetta alle lucertole, al campo delle lucertole. E poi posso staccare, almeno facciamo, diciamo, un unico filone tutto insieme. Di, diciamo, di trama, di storia. Ah. Ma in tutto ciò... Allora, se noi tecnicamente dobbiamo andare dalle lucertole, dobbiamo uscire da quest'altro lato. Ma... Dobbiamo andare da Salome, forse? Forse dobbiamo andare da Salome, per parlargli e dirgli che siamo pronti per partire. Vediamo. O forse lui ha già fatto tutti i preparativi e quindi possiamo uscire... Eh, infatti, dobbiamo andare da lui. C'è qualcosa che non va, Milady? No, Salome. Mi sento un po' meglio. Quindi... Sto andando a fare i miei compiti. Per favore, prenditi cura di te stessa. Comunque, hai finito le preparazioni per la battaglia, Milady? Ah, ecco, vedi? Ehm... Praticamente... Forse qui c'è una battaglia campale. Credo che qui ci sia una battaglia campale. Eh, ma cosa più importante... Abbiamo avuto la possibilità di poter girare tondo... Perché questa è la prima volta in cui io, tecnicamente, avrei potuto reclutare gente con Chris. Perché lei, appunto, avendo conosciuto il castello di Midgar, ha esplicitamente detto a Thomas che se avesse incontrato qualcuno in giro, gli avrebbe detto di andare direttamente al castello. Ora, il fatto è che io altri personaggi nuovi non ne ho dall'investigatore. Non me li ha fatti vedere, quindi suppongo che non ci siano gente da reclutare. Anche perché le zone dove devo reclutare le altre persone ancora non le ho sbloccate. Quindi si vedrà più avanti. Ma se faccio Need to Plan Hour Formation... Capisco, Milady. Ah... Ah, posso decidere di fare il party. Quindi posso mettere... Cioè, posso fare il party. Healing e cook. Scusa, è il senso di fare la formazione? Quindi Leo e Percival non hanno un attacco combinato. Uh, loro invece sì. Loro hanno l'attacco combinato. Percival e Boris hanno l'attacco combinato. Figata. Ok, quindi direi che siamo pronti allora, no? Forse il party mi serve per le battaglie. Sì, sono pronta. Andrò a dire ai nostri uomini di fare in fretta le loro preparazioni, va bene? Sì, per favore. Dobbiamo muoverci. Capisco, Milady. Ripeto, non mi sento di dover reclutare altra gente perché non ce n'erano. Sarà una battaglia difficile. Dice, sa. Eh, già. Eh, la nostra complessa relazione con le lucertole crea... Cioè, rende questo combattimento ancora più complicato. Eccoci qua, pronti. Adesso percorreremo la strada... Cioè, no. Eh, noi non... Ah, adesso seguiremo i pensieri, comunque quello che il concilio di Zexen ci ha ordinato di fare e attaccheremo il clan delle lucertole. La vendetta... La vendetta sarà dolce. State nella vostra formazione di battaglia. Proveremo che la forza di Zexen deve essere in un qualche modo riconosciuta. Non saranno... Non saranno mai delusi. Ok, pronti alla battaglia. Muoviamoci. Ah! Comincia la battaglia... Ah, vedi che battaglia campale, immaginavo. Sconfiggi 5 unità nemiche. L'unità di Chris viene sconfitta. Ok, quindi... Devo fare attenzione. Il Great Hollow sarà presto alla nostra portata. Procedete con cautela. Gli scout reportino che il clan de Caraia è assemblato qui pure. Per quanto riguarda Boris e Percival... L'ultimo messaggio è che hanno detto che sono in posizione, capitano. Dice... Allora, prendete formazione. Leo, prendi il punto. Zexen, avanti. Avete sentito il capitano. Salom, lascio a te il segnale per Boris e Percival. Voglio un tempismo perfetto. Sì, capitano. Ok. A questo punto io invece dico che faccio end, in modo tale che tutti si avvicinino. Zexen, informate l'intero clan adesso. Eccoli là. Sembra che ci abbiano visto. Preferirei un combattimento... Un combattimento veloce, comunque. Ok. Noi invece rimaniamo per ora qui. Vediamo se loro si avvicinano. Perfetto. Allora, come skills non abbiamo niente. Tu come skills non hai niente. Tu come skills non hai niente. Benissimo. Quindi lui ha Leo, Zexen, 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 support Salom. Zexen, 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 Roland. E lei invece support Chris. Allora, io direi che possiamo andare ad attaccare qui. Incominciamo. Pregate gli spiriti della terra. Nel nome dei nostri ancestors. Quindi i nostri, come si può dire... I nostri profeti caduti. Siamo chiamati ad avanzare contro il nemico. Ok. Cominciamo la battaglia. Loro sono stronzi comunque perché... Fanno gli attacchi sguingati che sono forti. Attaccano più gente alla volta. Ah, però levano pochissimo loro. Noi facciamo molti più danni. Beh, immagino che sia comunque una battaglia... Diciamo, mezza scriptata. Olè, fuori uno. Finché il leader è entrato in Berserker. Ok, la battaglia è finita. Tra l'altro è rimasto soltanto lui in vita. Quindi ora potrebbe essere il momento di Leo per... Porre fine alle sue sofferenze. Ecco, ora tecnicamente lui se fa un bel danno... Lo shottiamo. Olè. La vittoria di Leo... Cioè, l'unità di Leo è vittoriosa. Bene, fuori uno. Perdonatemi. Pronti! Via! Madonna mia, quanti danni fa! Mancato. Minchia. Uh, la runa addirittura. Pofete! Shottata proprio. Easy. Minchia, Shiba 300 e passa HP. L'unità di Shiba si ritirerà dopo questo turno. Ok, la battaglia è conclusa. Oh! Per voi... Anzi, per te, piccola ragazza... Riuscire ad andare via di qui viva non sarà così semplice. Per le tue azioni codarde i nostri comandanti sono morti per sempre. Ma noi adesso avremo la nostra retribuzione, avremo il nostro compenso, diciamo. Unchia, le unità dei carai addirittura ci sono Puttaneva Ecco, vedi, noi qua ci curiamo fortunatamente Oh, bene Seguitemi Barbari, imparerete che cos'è la forza dei nostri cavalieri Bene, bene, bene Quindi ora io posso sfruttare lui per andare qui addirittura Ok, attacchiamo qua Via Unchia E la madonna Ma loro ci fanno comunque molti meno danni rispetto a noi Olè, fuori uno Loro ancora non si ritirano Fuori un altro E la battaglia è conclusa Eh sì, andiamo anche con loro Cerchiamo di fare il colpo di grazia Se ci riusciamo Ah, loro si ritirano dopo questo turno già, manco il tempo? Minchia Beckham non se la sente di combattere E la battaglia è conclusa Eh, ma questo non sarà un problema Perché ci pensiamo noi ora Ah, ha deciso di... Eh, giustamente è vero Perché puoi decidere con chi... Madonna, lui sta castando una magia addirittura qua Questi sembrano fortini, eh Vento Minchia Fa shredding No, vento del sonno forse Madonna mia L'ha disintegrato Oh, bene Stop casting Buono Meglio Ok Minchia Questo mi one shot a tutti No, io non mi ritiro Vado dritto come un treno Certo, il fatto che stiano attaccando il leader È un po'... Strategicamente parlando È un po' brutto Ok, battaglia conclusa E qui ora andiamo ad attaccare Ovviamente si mette davanti lui Giustamente Eh, se riuscissi a fare fuori il leader Sarebbe tanta roba Olè 59 precisi Ah, quindi ucciso il capitano Vinciamo automaticamente L'imbarazzo della ritirata Ok E qui è fatta Ecco Direi che andiamo con Leo Sì Lei ci va con Lucia Ovviamente Eh, con la frusta Noi ce la ricordiamo benissimo Lucia Da Da Shui Koden 2 Il leader che attacca il leader No, abbiamo attaccato l'altro Lei è zero Full defense Full defense addirittura Ok, uno dei caraia è morto Boom Ecco, Lucia si ritira dopo questo turno E la battaglia è conclusa Vai Lucia Allora A questo punto Io vado con lei Da Lucia Visto che lei Però le ore lui si metterà con l'altra unit Vero? Eh, infatti Con i soldati Va bene Andiamo Ah, dopo questo attacco Si sono ritirati proprio direttamente Bene Perfetto Turno del nemico Noi andiamo con Leo Perché giustamente possiamo scegliere con chi Con chi prendere l'attacco Madonna mia Allora Sono un po' lente queste battaglie strategiche Queste battaglie campali Però non sono bruttissime Perché ogni unità Conta E' figa sta cosa Ok Qui ormai Lo stiamo facendo fuori Bastardo Ok Via A posto L'unità di Leo E' vittoriosa Quindi Altra unità sconfitta Non ci credo Eh Credici invece Toh Andiamo Con Lui Da solo Tra l'altro Mi attacca Coraggiosissimo Vai Fai un bel colpo buono Poffete Via E anche l'unità Di Beckham Ritirata Ora andremo Con Chris Da Lucia Visto che lei voleva Sconfiggermi No Eh ora ci andiamo Ci pensiamo noi Fuori uno Fuori due E mo Eccola qua Poffete Poffete Vai così Dopo questo Minchia Sei ritirata Fanculo E vabbè Noi allora E che però Minchia ora giustamente Difendono con Eh Ovviamente Prevedibile Ghi ha stunnato Addirittura Attaccato due volte Ah no È perché È cominciato Forse L'altro turno No no In realtà no Ecco Dopo questo turno Le lucertole Si ritirano Ok Battaglia Conclusa Quindi Ora con loro Possiamo attaccare Lucia Che è praticamente Ormai morta Ah no Niente Lei si è ritirata Se è riuscita A ritirarsi Subito Che palle Però che si mettono Giustamente con le unità Full E quindi Perdi Diciamo Molto più tempo Ok Fuori uno Ovviamente siamo in superiorità Quindi Abbiamo fatto qualche danno in più È entrato in berserker Ok Però L'abbiamo buttato giù subito E anche loro Se ne vanno Ritirata Ritirata Questo è troppo Seguitemi Che cosa The Spice of War Le spoglie della Della guerra Succede delle volte Quando scappano Così disorganizzati Oh Major victory Addirittura Major Quindi Vittoria Sfolgorante Avete Hai preso Evasion ring Ah ma mi sa che forse Anche in base al grado Della vittoria Vince oggetti diversi Andiamo verso Il nascondiglio Delle lucertole Non cadete Nelle loro buche Non essere così Eccitato Boris Perché no Percival Stiamo Stiamo realizzando Stiamo 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 appunto Sfruttando la possibilità Di vendicare il capitano Galand E E E Mandare indietro Quei barbari Alla loro Diciamo Alla loro Posizione Io dico Che ci sono Diversi motivi Per essere Eccitati Avete Diciamo Avete Avete Chiarito I vostri punti Ma oggi Il nostro Obiettivo Principale È dimostrare La nostra Potenza Non fatevi Distrarre E state Uniti Al gruppo Principale Di battaglia Milady Prenderò La vostra Posizione Diciamo Sul retro E Osserverò Il vostro Progresso Della battaglia Per favore Fate attenzione Oddio Guarda Le combinazioni Di attacco Knight B Knight B Tutti gli attacchi Combinati Ci sono Ok Però Diciamo che Per il momento È tutto Quindi Io stacco Qui E comincio Subito Dopo Una nuova Registrazione Alla prossima